Dopo 32 giorni di occupazione hanno riaperto questa mattina i cancelli della FIMER di Terra Nuova a Bracciolini. I 280 dipendenti sono così tornati al lavoro, seppur ancora con molti dubbi e preoccupazioni. Lo stato d'animo non è dei migliori. Si riprende il lavoro, non si sa quanto lavoro, non si sa quanto produrrà in termini di fattibilità di cassa. Però era necessario perché la decisione del Tribunale di Milano di concedere questi ulteriori 60 giorni per depositare un piano concordatario di fatto ha riportato l'orologio indietro. La decisione era stata presa nell'ultima assemblea anche se ancora non ci sono certezze sulla tempistica del pagamento degli stipendi. Purtroppo siamo in una procedura concorsuale e questo non c'è dato di sapere se nei prossimi giorni questa nostra richiesta potrà essere soddisfatta direttamente dal giudice. Perché ripeto, tutto sta nella misura della disponibilità di cassa. Dovranno essere pagati gli stipendi perché altrimenti ricominceremo con i blocchi e con tutta la situazione. La prossima data cerchiate a rosso sul calendario è quella del 10 giugno, giorno in cui il CDA è tenuto a presentare una prima relazione. Il termine ultimo concesso dal Tribunale di Milano invece per la definizione del concordato preventivo scade il 21 agosto. Speriamo che anche il Tribunale di Milano si renda ben conto di quello che sta succedendo e che si possano inserire gli investitori seri che hanno veramente volontà di inserire quella liquidità che ovviamente ha necessità di un impegno da parte dell'azienda. Grazie. Grazie.